Ciao, bentornati in numerologia audio. In questo audio parlerò del vostro numero del destino, che è il secondo numero del vostro profilo numerologico. Il numero del destino rivela la vostra missione personale, la vostra vera vocazione, il cammino che siete qui per percorrere e il destino che vi aspetta. Analizzando le lettere presenti nel vostro nome completo di battesimo, è risultato che il vostro numero del destino è il numero 8. Il numero del destino 8 indica che siete destinati a raggiungere una posizione importante di potere, ricchezza o rilievo sociale. Il vostro cammino sarà quello dei leader positivi, che offrono le proprie forze per aiutare chi ne ha bisogno. Avete ideali e standard molto elevati e grandi doti organizzative e gestionali, di persone e risorse. La vita vi pone di fronte molte sfide, ma grazie a energia, entusiasmo e senso pratico potrete sempre risolvere ogni problema. Lavoro, potere personale e ricchezza hanno molta importanza nel vostro cammino, ma il vostro impegno non è ripagato solo in termini monetari, ma anche a livello di crescita personale e interiore. I risultati della passione con cui lavorate arrivano quando riuscite a trovare e mantenere il giusto equilibrio tra approccio spirituale e materialistico e quando lavorate per voi stessi, ma anche e soprattutto per il bene degli altri. Un altro degli insegnamenti che siete qui per imparare è quello di non giudicare gli altri sulla base di aspetto fisico, beni e possedimenti materiali, estrazione sociale o livello di potere. Anche da questo punto di vista, la vostra missione principale è quella di trovare il giusto equilibrio tra forma e sostanza, mondo esteriore e mondo interiore. Il numero 8 in particolare ha un fortissimo potere magnetico ed è quindi importante che impariate a vivere nella gratitudine e nell'ottimismo. Il vostro percorso non è tra i più semplici, ma quando riuscite a mantenere un approccio ottimista, costruttivo ed equilibrato alle vostre esperienze e relazioni, vi sentite appagati e felici, ottenete il successo che meritate e realizzate il vostro destino. Gli stati d'animo e il numero del destino Gli stati d'animo giocano un ruolo fondamentale anche per quanto riguarda il numero del destino. Anche in questo caso, infatti, essi fungono da importanti indicatori e possono rivelare quanto siete vicini al compiere la vostra missione personale e se state favorendo o meno la realizzazione del vostro destino. Quando siete fuoristrada e state trascurando la vostra vera vocazione e ostacolando il compimento del vostro destino, i vostri stati d'animo vi avvisano diventando negativi. Avendo il numero del destino 8, potete sentirvi insicuri e preoccupati e diventate pessimisti, superficiali, intolleranti, inflessibili, egoisti, avidi, manipolativi, disonesti, intimidatori e dispotici. Questi stati d'animo negativi rappresentano i vostri campanelli d'allarme che vi informano che state facendo qualcosa di sbagliato e ostacolando la vostra realizzazione personale. Osservarli e capirne le cause vi darà una nuova consapevolezza riguardo a quali comportamenti e quali scelte evitare, in modo da sentirvi meglio e soprattutto smettere di ostacolare il compimento del vostro destino. Quando invece state seguendo la vostra vera vocazione, state rispettando la vostra missione personale e favorendo la realizzazione del vostro destino, i vostri stati d'animo vi avvisano diventando positivi. Avendo il numero del destino 8, vi sentite leggeri, sereni, spensierati e fortunati e diventate ottimisti, fiduciosi, sicuri di voi, motivati, organizzati, responsabili, diligenti, affidabili, determinati, efficienti, forti, tenaci e coraggiosi. Questi stati d'animo positivi sono lì per indicarvi la strada giusta, per confermarvi che state facendo bene, che vi state muovendo nella direzione corretta e che state contribuendo alla realizzazione del vostro destino originale. Osservare questi stati d'animo positivi e capire che cosa li provoca vi darà una nuova consapevolezza su quali passi compiere e quali azioni intraprendere per favorire la realizzazione del vostro destino. Le sfide del numero del destino Realizzare il vostro destino non sarà per forza facile, ma sicuramente sarà la sensazione più bella del mondo, poiché darà un senso alla vostra vita e vi farà sentire che avete portato a termine la vostra missione personale. Fortunatamente la numerologia ci rivela le difficoltà e le sfide che possiamo incontrare nel nostro percorso di realizzazione. Conoscere le nostre sfide personali e allenarci a superarle ci permetterà di affrontarle efficacemente e di avvicinarci più velocemente al compimento del nostro destino. Avendo il numero del destino 8, per compiere il vostro destino dovete focalizzarvi e imparare a Affermarvi e rivendicare il vostro valore personale Adottare una mentalità positiva e ottimista Esprimere gratitudine e fiducia invece che lamentele e preoccupazioni Mitigare il vostro potere personale con le qualità di rispetto e giustizia Essere leader giusti e onesti Vivere con integrità e onestà E infine trovare il giusto equilibrio tra spiritualità e materialismo Anche per quest'audio è tutto Abbiamo parlato del vostro numero del destino Degli stati d'animo collegati e delle sue sfide Vi ricordo che la versione scritta contiene alcune informazioni aggiuntive Nel prossimo audio parlerò del vostro numero della felicità E scoprirete cosa vi rende davvero felici E cosa fare e cosa evitare per diventarlo Spero che anche quest'audio vi sia servito a ritrovare un pezzettino di voi stessi E a reindirizzarvi sulla strada giusta verso la realizzazione del vostro destino Sono contenta che abbiate intrapreso questo viaggio Vi ringrazio e dovreste esserne fieri Vi auguro un buon proseguimento A presto